Dal 2024 sarà avviato il nuovo dimensionamento scolastico e in Abruzzo la provincia dell'Aquila sarà la più penalizzata. La denuncia della CGL, l'allarme è concreto perché la Camera ha dato il via libera al decreto mille proroghe con il voto di fiducia. Anche il senatore Michele Fina ha fatto notare che nel testo normativo non c'è la proroga delle norme sul dimensionamento di cui si era fatto promotore in Senato. La sindacalista Miriam Delbiondo teme che tutto ciò sarà distruttivo per il sistema scolastico del territorio e per questo si chiede l'apertura di tavoli regionali e comunali per pianificare il futuro delle scuole provinciali. Già si fa fatica con gli attuali parametri che, ripeto, ammontano a 600 iscritti con una deroga di 400 per i comuni montani. Quindi già si fa fatica con questi parametri a mantenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche a 900 iscritti per l'autonomia, o meglio ad una media tra i 900 e i 100 iscritti affinché ogni istituzione possa mantenere l'autonomia, è chiaro che la nostra provincia, ma non solo la provincia, anche alcune scuole dei centri più grandi, l'Aquila, l'Avezzano e il Sulmona, saranno fortemente penalizzati. E si arriverà a degli accorpamenti sul territorio che andranno a formare in realtà delle istituzioni mostro su territori con una difficile viabilità, su territori molto mal serviti e quindi quello che ci preoccupa è che questa sarà un'ulteriore misura che nel giro di pochi anni collaborerà alla desertificazione del territorio, perché a quel punto le famiglie veramente non avranno più ragione di rimanere nelle aree più marginali. Non si può fare più niente? Ma vediamo, si inizia a parlare in questi giorni di deroghe per i comuni montani e già questo potrebbe essere un passo avanti. Certo, abbiamo un governo in questo momento che marcia sulla propria via con determinazione, per cui diventa tutto più difficile.